musica 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 ok ancora manca un pochino dai altri 5 minuti me li sento per registrare e anche perchè devo comprarlo assolutamente un hard disk ho preso qualche accarata no ho finito l'elmetto e vabbè facciamo l'elmetto in ferro ok devo comprare un hard disk nel frattempo prendiamoci tutto questo mio dio cosa ci fai qui penso ci sia la lava qua sotto si penso proprio che ci sia la lava allora noi molto cautamente controlliamo perchè potrebbe essere anche un rifornimento di ossidiana quindi non sarebbe per niente male eh controlliamo prima se c'è qualche creeper insomma mettiamoci la spada nel primo il primo slot non penso sia neanche tanto lontano da me ok eccola ahah ahah è una lava un po' buggata eh vabbè direi di vedere se qualche zombie bruciato ci ha lasciato qualche ricompensa degna di uno zombie eh qua io direi intanto di prendere un po' di grano e i meloni ciao galline no dai solo i meloni ok le pecore 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 ok qui c'è un altro uovo siamo a tre uova merda facciamo accoppiare le galline e le pecore dai io aspetterei ogni volta che cresce tutto il grano però ormai mi serviva quindi buona per questa volta è così la prossima volta lo prendo tutto quando è finito un altro uomo mi sa che mi hanno fatto sentito uno strano rumore mmm si infatti dammi questo uovo allora tu come ti accoppi con i semi? no ma ok perfetto ah ok non spuntano non spuntano i cuori mi sa che è un pochino buggata questa versione eh guardate che piccola intanto la pecora guarda come è adorabile ok ehm direi che se l'hard disk regge vorrei fare una coltivazione di 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 come oh oh guardate 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 chi ci sono mucche e maiali maiali vediamo se la prova della verità vediamo se vengono con i semi oh guardate quanti maiali si i maiali vengono con i semi no no era una botta di culo stava venendo verso di me e come potrei fare intanto direi di portarci quella mucca a casa ma ci sei solo tu oppure ci sono altri tuoi compari ehm la sotto ci sono le squid ehm si direi che mi porti intanto a casa a te dato che sei ehm magari oh 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 la sotto c'è un'altra mucca no no ti ho visto ti ho visto ecco lo so che portarli a casa sarà un problemaccio casa recinto per voi voi non siete altro che carne per me venite venite da qua si scende? ehm I don't know yes si potrebbe scendere venite venite che stiamo arrivando a casuccia oh la sotto ci sono anche canne da zucchero diciamo che questi qua sono episodi abbastanza vieni qua oh mucca? mi serve un altro esemplare di mucca per ah dai cammina oh cammina mucca di merda perfetto mi sto ricampando anche con una pecora parto con due mucche tre due pecore perfetto prima che arrivo a casa penso che ho un allevamento alle mie spalle mi sbrigate magari dai che siamo quasi arrivati a casa dai che siamo quasi arrivati a casa vostra almeno avrò cibo assicurato dai merda di mucca vieni qua la vedi qua? dai beh intanto no si sono fermate tutte qua dai fermi perfetto perfetto tutte qua eh una alla volta prima fate entrare mucca no ma vieni qua entro mucca ma che casa vuoi più della vita? vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua oh zombie Penso di avere una miniera sotto casa Entrate Dai No, no Un'altra mucca non la perdo Ve ne andate? Merda, che difficile fare entrare quella mucca Vediamo come potrei fare Mucca? Perfetto Questo lo metto qua Perfetto Qua sotto mi sa che c'è Qualche cosa Perfetto Si sentirà fra poco il rumore della madonna Era meglio se lo costruivo molto più lontano da casa Il cancelletto l'ho chiuso? No, ovviamente Allora facciamo accoppiare intanto le mucche Accoppiatevi, baciatevi E non rompete il cazzo Prima vi sono tutti a fuoco Tu ancora non sei diventata grande? Allora Perfetto Cane da zucchero Andiamo a prendere le canne da zucchero Si, dovrò ingrandire Il maiale Il maiale Devo prendere i maiali Eh, se invece No, ok dai Aspetto le carote Ormai Sono un tipo abbastanza paziente Certo Magari se qualche zombie Poi Altra mucca Ma te li ammazzo Ho bisogno di cibo veloce Bravo Allora Qui sotto avevo visto la canna da zucchero Eh, sì Perfetto Solo due Ci sono solo due canne da zucchero In questo mondo Questo sì Che è un mondo ricco di minerali Minerali Certo perché le canne da zucchero Sono minerali Eh Uno zombie Sarà la mia giornata fortunata Questa Ma prima ci devo arrivare Allora No, non è la mia giornata fortunata Eh, qui c'è troppo buio Sì Per questo spawnano gli zombie Una vera foresta Vediamo cosa c'è qui Non mi voglio perdere D'accordo Oh mio dio Cosa c'è Sento gli zombie Minecraft Cosa vuol sentire Magari è meglio Non Non Porco cane Telefono Un attimo Un attimo Un attimo